ben trovati che le amici a casa rinaldi un altro appuntamento e si parla di salute ancora oggi con me con noi c'è lei la professoressa alessandra graziottine ben trovata ormai un'amica grazie grazie per l'invito grazie a lei grazie all'ascoltatrice e gli ascoltatori tante amiche fanno un sacco di domande vogliono sapere vogliono chiedere soprattutto parlano di cervello le nostre amiche e cervelli in gran forma ecco perché gli anni passano e ci anche il cervello è brutto e poi noi donne lo usiamo di più il cervello quanto pare degli uomini dicono e quindi magari su questo non mi posso esprimere perché purtroppo devo dire che soprattutto due anni ho visto un appannamento un deterioramento cognitivo nelle donne veramente impietali aiuto peggio questi due anni che in tutta la mia vita precedente come ho visto pensate il 48 6 per cento degli italiani ho menzato il peso e non ho mai visto nelle pazienti così tante glicemie alterate e già ho detto tre cose essenziali per la salute del cervello immagino allora il cervello in gran forma la sedentarietà gli zuccheri in eccesso come parlato di glicemia l'attività fisica il più potente personal trainer per il cervello ma ce ne parli lei che cosa dobbiamo fare per mantenere il nostro cervello in forma allora anzitutto come dicevano i romani o i latini duemila anni fa mens sana incorpore sano allora attività fisica irrinunciabile semplice camminata quotidiana alla mattina presto perché questo tiene basta l'infiammazione e ricordiamoci che la neuro infiammazione è il denominatore comune della depressione del deterioramento cognitivo fino all'alzheimer o comunque alla demenza anche su base aterosclerotica e fa l'altro 50 per cento l'alzheimer e circa 48 per cento e poi anche del parkinson che può essere in comorbilità nel 40 per cento dei casi con l'alzheimer dico subito alle amiche in ascolto che proprio recentemente ho presentato una relazione ai colleghi neurologi e quindi ho rivisto bene tutta la letteratura scientifica sull'argomento pensate che iniziare una terapia ormonale sostitutiva subito dopo la menopausa dimezza il rischio di parkinson di mezza 50 per cento in meno e non lo diciamo in più fare una terapia ormonale sostitutiva subito dopo la menopausa a cavallo della menopausa accompagnando la transizione magari parliamo un'altra volta aiuta però anche a rallentare il deterioramento cognitivo la perdita di memoria di concentrazione di attenzione con un meccanismo diretto e indiretto il meccanismo diretto è perché gli estrogeni progesterone il testosterone e il DEA sono grandi proprio diciamo così protettori della salute sia delle cellule nervose i neuroni sia della glia le cellule gliali che sono un po le cellule nutrici quelle che nutrono prodotto riparano i neuroni quando noi abbiamo un'alta infiammazione del cervello le cellule nutrici la glia la microglia in particolare vira da neuroplastica cioè nutrice protettrice a neurotossica e la neuroinfiammazione lo ripeto perché è un concetto cardinale se vogliamo tenere il cervello in forma è il denominatore comune della depressione dell'alzheimer del deterioramento cognitivo e del parkinson quindi tanto per cominciare la camminata veloce alla mattina terapia ormonale sostitutiva iniziata subito non a 70 anni con estradiolo progesterone o progestinici esoterone e l'idea vaginale perché per altra via non possiamo più darla valutando bene ovviamente la personalizzazione della terapia vi do solo un concetto al quale c'è poca attenzione il peso corporeo che i pediatri hanno chiarissimo e noi medici degli adulti no eppure basta il buon senso le taglie sono molto diverse tra una donna di 40 kg e una di 90 kg anche le dosi dei farmaci che noi usiamo dovrebbero essere molto differenziate perché altrimenti la stessa dose di farmaco è inutile in un caso e tossica nell'altro o viceversa inefficace eccetera quindi a parte questo che però è una chiosa che merita attenzione altra attenzione cioè perché la antiormonale è amica del cervello sia perché mi vada agire direttamente sulle cellule nervose migliorandone la manutenzione per dire in termini semplici sia perché mi protegge il cervello attraverso il migliorare la qualità del sonno tanto vero che uno dei primi sintomi della menopausa sono le vampate che sono di più di notte le sudorazioni notturne il sonno che diventa superficiale con molti risvegli le tachicardie notturne ossia il primo dipartimento del cervello che va in crisi è quello che regola il sistema neurovegetativo quindi tutta la nostra vita involontaria di cui il ritmo del sonno è un grande pilastro meglio dormiamo come qualità non tanto come ore 8 ore sarebbero la perfezione 7 8 ma il come dormiamo bene migliore la qualità del sonno migliore la protezione che noi andiamo a fare della nostra salute cerebrale ecco perché il camminare fuori alla mattina è fondamentale e lo dico a tutte le anziane e agli anziani perché questo vale esattamente per i due sessi è fondamentale per mantenere il bioritmo di produzione della melatonina che è il primo regista del sonno quindi uscire fuori esporsi alla luce alla luce naturale e camminare aiuta tutto il nostro organismo a sincronizzare i bioritmi ma attenzione aiuta anche un altro bioritmo che è quello della pressione arteriosa e la pressione arteriosa ha un suo bioritmo delle 24 ore con un minimo verso le tre le quattro di mattina mantenere la circadianità questa variazione nell'arco delle 24 ore è fondamentale vale anche per i battiti del cuore vale per tutta l'efficienza cardiaca vale per la pressione ecco che allora camminando fuori buon passo alla luce del sole noi cominciamo ad aiutare non solo la salute generale ma anche la salute del nostro cervello poi per cervelli in forma ve lo chiedo con le mani giunte alle signori in ascolto pochissimo alcol pochissimo alcol meno bevete meglio è potete tenervi un bicchiere il sabato se uscite fine del film perché noi donne abbiamo meno della metà di un enzima che si chiama alcol di idrogenasi che è quello che elimina l'alcol abbiamo meno della metà rispetto ai maschi quindi se si va a cena e beviamo due bicchieri a testa a lui non gli fa niente da con vista la tossicità anzi se è rosso gli fa pure bene il sveratrolo per le arterie a noi donne no è tossico per il cervello fate molta attenzione perché la tossicità dell'alcol sul cervello delle donne è tremenda vi do un segnale e molti di voi diranno urca vero non ci hanno fatto caso quando voi bevete alla sera noterete e siete in menopausa che si accentano nettamente le tachicardie notturne soprattutto se dormite è il vostro cuore che vi dice tesoro mio fai attenzione l'alcol ti mette allegria per carità buonissimo eccetera ma a me che sono il tuo cuore amoroso fa malissimo e fa malissimo anche al cervello quindi mi raccomando meno alcol non parlo neanche dei super alcolici che noi donne vorremmo evitare come la testa bubonica ma pochissimo perché questo significa amare nella sostanza proprio cervello zero anche al fumo buttiamolo via gli uomini hanno ridotto il fumo noi continuiamo a aumentare e anche il fumo è tossico per il cervello oltre che per il tumore ai polmoni questo lo sanno tutti ma anche per il tumore alla mammella aumenta il rischio di canche al collo dell'utero se avete preso il papilloma virus e sta aumentando nettamente nelle donne il carcinoma alla vescica perché i cancerogeni del fumo di notte vengono eliminati dal rene si concentrano in vescica tanto per dire eliminiamo sti tossici già ci abbiamo abbastanza tossici ambientali senza che ci andiamo a mettere del nostro questo sempre per la vostra salute poi se vogliamo aiutare il cervello a rimanere in grandissima forma che cosa dobbiamo fare? continuare a imparare a imparare a imparare mi piace sempre citare un autoritratto magnifico del Goya grandissimo pittore del 600 spagnolo che potete vedere al Prado a Madrid mi ricordo che ha fatto la foto perché? perché questo autoritratto che lui ha fatto a 90 anni c'è una frase bellissima il suo motto a 90 anni e adesso avrebbero 130 adesso perché 90 anni nel 600 era adesso 130 bene lui ha scritto la destra proprio in basso me lo ricordo benissimo a un aprendo che vuol dire imparo ancora ecco allora continuare a imparare che sia cucinare meglio che sia una lingua che sia il giardinaggio che sia ballare il tango che sia per esempio ve lo consiglio tantissimo il pianoforte compratevi una tastiera ho fatto anch'io comprate una tastiera pesata con i tasti pesati perché potete suonare in cuffia e quindi non seccate i familiari non seccate i vicini potete suonare di giorno di notte non mi vergognate tutti gli strafagioni che fate ma il piano o la tastiera o la cuffia ancora meglio è fantastica perché dovete leggere le due righe suonare con le mani a pensare al ritmo eccetera eccetera ragazzi è un fattore di ringiovanimento cerebrale fantastico e poi un fattore di socializzazione quindi imparate che sia uno sport che sia uno strumento che sia scrivere un'altra lingua imparate 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 perché questo soprattutto se il consente di stare di più insieme agli altri perché abbiamo l'appuntamento per la lezione abbiamo la piccola banda abbiamo il corso di cucina o il corso di tango o quel che vogliette tutto quello che ci porta a stare con gli altri ad apprendere insieme agli altri è un fattore formidabile di giovinezza del cervello fino a cent'anni e anche della pelle anche perché tutti certo perché ci parliamo sempre sempre assolutamente è come per me un grande apprendimento conoscere sempre di più approfondire tutto quello che la professoressa Alessandra Graziottina ha da raccontare a me a voi che state qui e che state qui ad ascoltare bene io ringrazio tantissimo la professoressa Alessandra Graziottina professoressa direttore del centro di ginecologia e sessuologia medica presso l'ospedale San Raffaele Resnati a Milano se avete domande chiedete visitate il suo sito internet alessandragraziottina.it pieno di tantissime informazioni che possono essere utili alle ventenni alle bambine che stanno crescendo e non hanno voglia o hanno pudore a chiedere alla mamma oppure magari le mamme sono un po' distratte e hanno altre cose da fare alle nonne che stanno vedendo le nipotine che crescono e quindi hanno anche i primi batticuore l'informazione sempre prevenire prima di tutto noi professoressa ci ritroviamo perché io la disturberò ancora lei lo sa con molto piacere grazie a lei tantissimo anche ai vostri registi e ai nostri ascoltatori e soprattutto ascoltatrice presto alla prossima grazie grazie a tutti